Ebbene sì signore e signori, è ufficiale, Pogba è diventato un giocatore scarso, scarcissimo per questi nostri giuventini che non lo sono, vogliono giocatori forti però poi si incazzano se metti i giovani sbagliano, poi metti Artur, Rabiù, si incazzano perché sono scarzi, veramente scarsi, si arriabbiano che la squadra non è competitiva, si arriabbiano se poi non mettiamo i cross in mezzo per Vlaovic e non sono contenti neanche che la Juve sta quasi per portare Pogba alla Juventus e dato che è una scelta di cuore perché Pogba si dovrebbe ridurre l'ingaggio, quindi se viene la Juve è solo una scelta di cuore, io stento a credere a quello che sentono le mie orecchie, no ma 29 anni, minestra riscaldata, no ma non è più quello di prima, gentilmente, lo posso vedere che ufficializza la maglia della Juventus, la alza al cielo, vederlo in campo e dopo trarre le conclusioni, grazie, tirare le somme, posso fare i miei calcoli quando lo vedo giocare in campo una stagione intera e poi facciamo i nostri calcoli? Grazie Pogba, non si discute, punto, basta, va fine, chi discute Pogba vuol dire che deve fare visualizzazione, ha da sempre rompere un po' cazzo perché ultimamente io su YouTube lo vedo che dovete rompere il cazzo, è allegri qua, è allegri qua, fin quando rimarrà ricchi qua, fin quando non rimarrà là, frate, oh, ma tu c'hai scassato cazzo, capite che c'hai scassato cazzo? Pensa a ti fare Juventus, che già è oro, è oro, che già deve incominciare il mercato e già si sente Juve qua, Juve là, già dovresti baciare a terra, se si sente Juve vuole prendere Milinkovic, doppio colpo di Maria, Terzino, già dovresti baciare a terra, già dovresti baciare a terra, PS, ognuno è libero di fare quello che vuole sul suo canale YouTube, ma non dovete scassare il cazzo, perché discutere uno come Pogba è inutile, perché si può, Pogba deve essere giudicato da chi ci voleva dare 10 milioni a Dybal, no, no, è la stessa cosa, è la stessa identica cosa, è probabilmente quello che ti fa Dybal ti fa pure Pogba a occhi giusti, pure Pogba a occhi giusti, quindi non rompete il cazzo, per cortesia, non rompete il cazzo, Pogba non si discute, basta, stop, fine, arrivederci.